Per uno dei tre il reato si è estinto dopo un progetto sulle mafie e bullismo, per un altro invece prosegue la messa in prova che non ha ancora dato risultato soddisfacente, mentre il terzo ragazzo è stato assolto perché il fatto non sussiste. Si tratta dei tre giovanissimi coinvolti nella vicenda del pestaggio ad un giovane ipovedente al parcheggio Pietri nella zona delle scale mobili di Arezzo nella notte tra il 2 e il 3 settembre 2021. La vittima dell'aggressione riportò lesione di un labbro, chimosi e la perdita di un dente con successivi problemi alla bocca. A seguito del brutale episodio scattarono immediatamente le indagini che portarono in pochi giorni all'identificazione e alla denuncia dei responsabili. Tre aretini che almeno in parte avrebbero fatto parte della famiglia Montana, la baby gang che aveva terrorizzato gli adolescenti aretini. Uno di loro, accusato di aver preso parte al pestaggio, difeso dall'avvocato Gabriele Tofi, lo scorso 7 novembre è stato assolto dal GUP. Non ci sarebbero elementi per ritenere che abbia picchiato il coetaneo sferrandogli i calci come gli veniva contestato. Gli altri due invece avevano ottenuto la messa in prova, uno strumento che consente di evitare la condanna attraverso buone condonte, pendimento e riparazione. Per uno il conto con la giustizia è già stato saldato, mentre l'altro è ancora in attesa e si trova in comunità.